Buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento di cambiavalute.ch dove cerchiamo di capire come si muoverà il franco svizzero per capire se è il momento di cambiare oppure è meglio aspettare. Io sono Luca Di Scacciati, prima di cominciare veramente con l'analisi fatemi condividere lo schermo e fatemi ricordare che sempre sul sito cambiavalute.ch potete tenere monitorata la pagina delle promozioni dove ci sono sempre tutte le nostre promozioni attive. Quindi se non siete ancora clienti, cosa molto improbabile in Ticino, potete guadagnare 25 euro con il vostro primo cambio. Se siete già clienti, vi trovate bene, cosa molto più probabile, potete presentarci un amico e ricevere 25 euro e addirittura i franchi in questo caso diventano 500 se ci presentate una ditta, magari la vostra ditta dove lavorate e questa ditta comincia a cambiare con noi. Detto questo passiamo subito all'analisi perché c'eravamo lasciati lo scorso appuntamento dicendo che il cambio franco svizzero avrebbe potuto subire un periodo di lateralità debolezza ed effettivamente se guardiamo il grafico è quello che è successo. Infatti abbiamo avuto per la prima parte del mese scorso un periodo di lateralità e poi effettivamente un periodo di debolezza. Avevamo anche detto che secondo la stagionalità la situazione si sarebbe potuta sbloccare. Andate a vedere la registrazione del webinar precedente la trovate sul nostro canale YouTube esattamente qui vi faccio un bello zoom così possiate che possiate vedere esattamente a cavallo diciamo tra il mese di ottobre e l'inizio di novembre. Più precisamente appunto avevamo visto che le date di tutte le stagionalità coincidevano con appunto il giorno 8 del mese di novembre. Anche in questo caso se andiamo a vedere cosa è successo sul grafico effettivamente effettivamente proprio il giorno il giorno 8 di novembre quindi a cavallo appunto dell'8 di novembre abbiamo avuto l'inizio del rialzo appunto del franco svizzero nei confronti dell'euro. Quindi ottima notizia perché come vediamo appunto sulle statistiche che vediamo anche della correlazione la correlazione del prezzo attuale del franco svizzero verso l'euro sta tornando a salire. Cosa che ci fa pensare appunto che le probabilità sono abbastanza alte appunto per un rialzo del franco svizzero nei confronti dell'euro per il prossimo mese e mezzo. Quindi come vediamo appunto come ci suggerisce la stagionalità le probabilità sono molto alte che il franco svizzero salga nei confronti dell'euro proprio per tutto questo periodo che vedete selezionato sul nostro grafico del forecast. ovvero fino al periodo a cavallo tra la fine di gennaio e scusate la fine di dicembre 2024 e l'inizio di gennaio 2025 e quindi per essere estremamente chiaro come detto appunto nel precedente appuntamento se non avete urgenza di cambiare aspettare il periodo appunto natalizio a cavallo tra dicembre e gennaio potrebbe essere la scelta migliore perché dal punto di vista stagionale stagionale vediamo appunto che le statistiche parlano chiaro. siamo in una finestra temporale quella che stiamo per vivere appunto da qui a fine anno che storicamente è sempre stata molto positiva infatti vediamo che addirittura negli ultimi sette anni il 71,4 per cento degli anni ha segnato una performance positiva in questa finestra temporale con un ritorno medio per il franco svizzero dell'uno punto del 1.8 per cento davvero molto molto interessante. se torniamo a vedere il grafico vi ricorderete dalla scorsa eh dallo scorso webinar avevamo visto appunto come il franco svizzero contro l'euro si è mosso nell'ultimo periodo a partire dall'estate scorsa all'interno di questo di questa figura che nell'analisi grafica nell'analisi tecnica viene chiamata cuneo e effettivamente in questo momento proprio a cavallo della ripresa della stagionalità positiva che abbiamo visto sulla stagionalità lo rivediamo qui esatto lo vedete qui abbiamo proprio il periodo stagionale che ricomincia la stagione comincia a tornare ad essere buona per il franco per il franco svizzero un po' come succede con le stagioni vere e proprie che abbiamo nella vita reale ecco che siamo arrivati davvero nella parte alta di questo e vi ricorderete che nel precedente appuntamento avevamo detto che da queste figure i gli strumenti finanziari escono in maniera molto violenta non si sa se escono in maniera violenta dalla parte alta o dalla parte bassa ecco nel caso del franco svizzero contro l'euro le probabilità sono che i prezzi usciranno dalla parte alta lo faranno in maniera molto violenta e con buone probabilità appunto raggiungeranno il livello che avevamo visto la precedente occasione che avevamo appunto calcolato semplicemente utilizzando gli strumenti dell'analisi tecnica in questo caso possiamo fare una proiezione che appunto porta il potenziale del franco svizzero a raggiungere appunto entro diciamo la fine di dicembre 2024 il livello di 1 e 10 quindi ripeto se non avete fretta di cambiare i vostri franchi svizzeri potrebbe davvero essere il caso di aspettare perché per la fine dell'anno ci aspettiamo un franco svizzero molto più forte rispetto a quello che adesso chiaramente sono previsioni ragazzi se domani domani putin decide di invadere la svizzera questa visione potrebbe assolutamente cambiare stiamo parlando di previsioni quindi se avete bisogno di cambiare il vostro stipendio perché i soldi vi servono fatelo senza dare troppo peso alle previsioni che essendo previsioni chiaramente hanno un alto livello di aleatorietà chiaramente questa è la mia esperienza sui mercati finanziari come abbiamo già visto spesso ci prendiamo però insomma la necessità del denaro del cambio è assolutamente prioritaria detto questo 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 mese vi voglio far vedere anche qualcosa di molto interessante abbiamo già parlato in passato del cot report il cot treport non è nient'altro che un rapporto che settimanalmente la commodity future in trading commission pubblica appunto negli stati uniti dove vengono riportate appunto tutte quelle che sono le posizioni degli investitori istituzionali quindi questo è un ente governativo che pubblica quelle che sono le posizioni a rialzo e a ribasso su qualsiasi strumento strumento finanziario degli investitori istituzionali ok che cosa vediamo una cosa molto importante molto interessante perché i non commercial che è questa categoria di cui fanno parte i gestori di fondi IRI grandi speculatori americani che cosa stanno facendo sul Franco-Svizzero beh dopo un lungo periodo a partire da proprio inizio 2024 dove le posizioni sono sempre state ribassiste sul franco svizzero, vediamo che la posizione netta è su questo grafico ribassista proprio perché vediamo che tutte le posizioni di questa categoria in un commercial appunto sono nella parte bassa del quadrante diciamo, è successo qualcosa di molto particolare, hanno praticamente chiuso tutte le posizioni ribassiste, questa categoria di investitori e si stanno posizionando al rialzo, quindi questa cosa mi fa ancora di più pensare che il franco svizzero abbia di fronte a sé un periodo con delle probabilità di rialzo molto molto alte che evidentemente anche gli investitori istituzionali stanno vedendo e vogliono sfruttare in qualche modo. Quindi come detto tutto ci dice che il franco svizzero potrà salire nel mese di dicembre e il picco massimo dovrebbe arrivare appunto alla fine dell'anno. Io vi ricordo nuovamente di tenere monitorata la pagina promozioni, vi ricordo che all'interno di cambiavalute una volta che avete fatto l'accesso con i vostri dati potete trovare anche qui a sinistra la pagina invita un amico, comodissima perché tramite dei semplicissimi bottoni potete condividere proprio il vostro codice via whatsapp, via email, via facebook, insomma dove vi pare e nel momento in cui un vostro amico, un vostro conoscente o anche qualcuno che trova il codice per caso in giro si registra al nostro sito passando tramite voi, voi e lui guadagnate 25 euro. Quindi mi raccomando utilizzate questi tool che vi abbiamo messo a disposizione per aiutarci a far riconoscere il nostro servizio e chiaramente ricevere il premio in cambio per questo vostro favore che ci fate. Noi ci vediamo il prossimo mese, grazie per aver partecipato a questo webinar, alla prossima!